Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin al panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono scorza d'arancia, zucchero semolato, panettone, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, uova, burro, yogurt alla vaniglia, gramme arnier che è facoltativo, sale e vanillina. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la vanillina ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il panettone che abbiamo tagliato a pezzetti e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Aggiungere la farina. Il burro. Lo yogurt alla vaniglia. Le uova. Il gramme arnier che è facoltativo. Il pizzico di sale. E il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 5. Versare il composto in pirottini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin solo cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Muffin al panettone. Grazie e alla prossima ricetta. Muffin al panettone. Grazie a tutti.